260 operatori della Polizia di Stato coinvolti, 42 provvedimenti cautelari emessi, 17 arresti in flagranza di reato, 33 arresti in totale e 44 chili tra ascisce e marijuana complessivamente sequestrati. Sono i numeri della vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura di Potenza che ha sgominato due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ma uno dei dati più preoccupanti che è emerso dalle indagini è il sempre maggior numero di giovani e giovanissimi che fanno uso di sostanze e che diventano dediti allo spaccio, un fenomeno preoccupante che può assumere i caratteri di una piaga sociale se non si interviene in maniera strutturata. Ma perché l'età media dei ragazzi si abbassa così tanto? Quali sono i motivi che li portano a percorrere le vie dell'illegalità? L'abbiamo chiesto a Mimmo Maggi, direttore dell'associazione Insieme, una struttura composta da psicoterapeuti, sociologi, educatori e operatori sociali che dal 1993 offre supporto e accoglienza le persone in situazioni di svantaggio attraverso il recupero terapeutico ed il reinserimento sociolavorativo. Noi pensiamo che siamo seduti su una pendola a pressione, una pendola a pressione che nessuno vuole vedere, soprattutto la politica. Noi lo stiamo denunciando da anni e purtroppo il disagio giovanile contemporaneo ce lo testimonia. Abbiamo visto che soprattutto in questa regione dove c'è uno spopolamento, voi sapete c'è un'alta disoccupazione. Il problema qual è? Che i ragazzi non vedono il loro futuro. Allora se io non vedo il mio futuro, sto parlando di adolescente, praticamente che cosa vedete? Se nessuno mi chiama alla vita, automaticamente c'è qualcosa che mi chiama alla morte, perché noi tutti, l'essere umano, è divisto da queste due pulsioni, la pulsione di vita e la pulsione di morte. Se noi non alimentiamo, non costruiamo ponti rispetto alla pulsione di vita, non facciamo innamorare i ragazzi della vita, automaticamente andranno a finire nella pulsione di morte.